Contato dal parterre una fantastica vittoria per la canottieri Padova nella specialità del singolo ma una vittoria, ne parlavamo qualche istante fa, che arriva dopo tanti anni di lavoro, otto anni di preparazione quindi anche tantissima attività. Quanto ci credevi ma soprattutto quanto sei contenta di questa vittoria? Contenta tantissimo, soprattutto perché è assolutamente inaspettata e devo fare un grandissimo ringraziamento al mio allenatore Alberto Rigato perché se sono qua è merito a lui. Una soddisfazione sicuramente palpabile ma entriamo un po' nella gara. Sei riuscita a portarti in testa subito in partenza? Assolutamente no, io parto sempre dietro, è stata una rimonta, l'ennesima rimonta però la barca scorreva senza troppo rompermi il fiato e quindi sono riuscita ad arrivare alla fine. Con la barca che volava hai tagliato il traguardo davanti a tutti e il prossimo traguardo quale vuoi raggiungere? Mondiali Under-23 spero. Un traguardo importante, Varese speriamo che ti possa aver portato fortuna, in bocca al lupo. Crepi. Grazie ancora, passiamo il collegamento a Peppe Antonucci. Grazie a tutti.